Questo è uno dei video che mi richiedete di più ogni anno, la mia personale divisione dei portieri per fasce di appetibilità. E non sarà la normale divisione che faccio ogni anno, c'è una piccola variante. In queste ore sta uscendo l'istoria del fantacalcio, per cui in questa settimana ti farà uscire tutti i video dei giocatori divisi per ruolo e per fasce di appetibilità. E per non perderti di cosa dovrai fare? Una cosa semplicissima, iscriviti al mio canale, io sono Michele e ti aiuto col fantacalcio. Voglio farti fare la migliore squadra possibile al fantacalcio, per cui iscriviti per non perderti nessuno dei miei video di consigli sul fantacalcio. È gratis! Normalmente io divido i portieri per quattro fasce di appetibilità. Nella prima fascia ci metto i portieri top per rendimento. In seconda fascia ci sono altri ottimi portieri, diciamo, portieri da Europa League, più o meno, o comunque come rendimento da Europa League. In terza fascia metto portieri da metà classifica e in quarta fascia metto portieri tendenzialmente da evitare. Quest'anno ho voluto fare una fascia intermedia tra la terza e la quarta fascia, quindi in terza fascia troveremo i migliori portieri da metà classifica. In terza fascia, bis, ci saranno tre portieri che secondo me faranno un po' peggio degli altri portieri da metà classifica, ma che possono essere presi come scommessine al tuo fantacalcio. Prima di partire con la prima fascia ti consiglio un'applicazione. Sto parlando di Fanta Algoritmo. Appena uscita l'app totalmente aggiornata, Fanta Algoritmo ti aiuterà durante l'asta del fantacalcio a farti scegliere i migliori giocatori, perché ruolo per ruolo ti indicherà chi prendere, quando chiamarlo e quanto pagarlo e in più a fine asta ti dirà chi secondo Fanta Algoritmo ha fatto la migliore squadra e chi vincerà il fantacalcio. Trovi Fanta Algoritmo al link qui sotto in descrizione. Ricordati di utilizzare il codice sconto FANTAGOL20 per risparmiare il 20% sull'abbonamento. E Fanta Algoritmo non è solo il tuo compagno in fase d'asta, ti aiuta anche durante tutto l'anno a schierare al meglio la tua formazione nel fantacalcio perché ti fa vedere gli indici di schierabilità della tua formazione. Di fatto ti butta una sua formazione da buttare in campo. Poi decidi sempre tu, ma Fanta Algoritmo ti aiuta. E in prima fascia chi ti vado a mettere? Partiamo con Shevny. L'anno scorso la Juventus ha preso 33 gol. Io credo che quest'anno questa difesa possa rendere più o meno in linea come l'anno scorso ed è stata una bella resa. In più quest'anno non ci sono le coppe per cui non ci dovrebbe essere del gran turnover. Ad ogni modo per i portieri che trovi qua consiglio di prendere anche il secondo. Per proteggere diciamo il tuo investimento, anche per tutelarti in caso di infortuni. I portieri in questa fascia non sono messi in ordine di preferenza. Meret in Napoli è stata la migliore difesa l'anno scorso. Chi ha preso Meret l'anno scorso, tra l'altro prima che chiudesse il mercato, ha fatto un affare perché c'erano diverse voci su di lui, sembrava potesse andare via e invece è stato il portiere meno battuto della Serie A. O comunque la difesa del Napoli è stata quella meno battuta. Io quando giudico un portiere e lo metto in una fascia o nell'altra di solito guardo molto la difesa che ha davanti perché tu puoi essere il miglior portiere del mondo ma se hai dei centrali che ti lasciano dei buchi in difesa poi dei gol ne vai a prendere. Lo stesso Meret se tu lo sposti alla Cremonese non credo che l'anno scorso avrebbe preso meno gol. Rispetto a Carnesecchi. Pro Vedel, direi portiere rivelazione della scorsa stagione. La difesa della Juve si sta un po' rinnovando ma grossomodo è quella dell'anno scorso. Non ci sarà Bonucci, ok. La difesa del Napoli ha perso Kim ma vedrai che qualcuno arriverà. La difesa della Lazio grossomodo è identica a quella dell'anno scorso. La difesa della Roma secondo me è migliorata quest'anno e se la Roma l'anno scorso ha preso 38 gol secondo me quest'anno ne prenderà un po' meno. Potrebbe arrivare sui 35 e non sarebbe male. Chiaro che qua ci potrebbe essere anche un po' di turnover per le coppe. Poi c'è Mignan. L'anno scorso ha preso 43 gol. Annata un po' particolare per il Milan. Quest'anno secondo me potrebbe arrivare sotto i 40 gol presi. O comunque sui 40. Per cui ci sta di metterlo in prima fascia. Però ragazzi, i portieri di prima fascia li conosciamo bene o male tutti. Andiamo a vedere la seconda fascia con le mie spiegazioni. In seconda fascia troviamo il portiere dell'Inter che ancora non c'è. L'anno scorso l'Inter ha preso 42 gol ed è vero che il portiere dell'Inter tendenzialmente è da considerare di prima fascia però sinceramente io non me la sento di considerare di prima fascia un portiere che non so chi è quando arriverà, quando si allenerà con la squadra per cui sì, la difesa dell'Inter è forte e forse è anche un pochino migliorata quest'anno. Però un conto è vero Nana un conto è avere un grosso punto interrogativo. Forse arriverà Sommer, però vediamo. Per ora te lo metto qui. Poi se sarà un portiere valido sarà in prima fascia. Qui ti metto un po' sorpresa carne e secchi. Il titolare probabilmente sarà lui Gasperini sta provando molto lui però qui per me è d'obbligo comprarlo insieme a Musso. Sia perché Gasperini verso fine stagione spesso alterna i due portieri sia perché comunque sia metti mai che poi il titolare sia Musso ti ritrovi con il secondo dell'Atalanta e ce ne fai poco cioè lo schieri 7-8 volte il secondo dell'Atalanta. Can e secchi viene da un gran bel campionato fatto in una Cremonese poi retrocessa non tanto per colpa sua e Gasperini sembra che gli darà fiducia. Tra l'altro con i portieri dell'Atalanta potresti anche andare a risparmiare qualcosa sia perché la Della l'anno scorso ha preso 48 gol che sono tanti quest'anno credo che si fermerà sui 43 gol presi sia perché proprio a favore di questo dualismo vedrai che andrai a pagarli meno. Secondo me una volta che ti prendi o Musso o carne secchi l'altro lo paghi meno forse partirei da carne secchi. Tra l'altro carne secchi è su Starks. Starks è l'exchange dove compri e vendi le valute ufficiali dei giocatori con tanto di licenza. Ci sono alcuni grandi campioni come Mancini Immobile Frattesi Gonzalef e altri giovani in rampa di lancio come carne secchi Bove Calafiori Vortea Antonucci ed altri in arrivo. Su Starks puoi guadagnare sia con la compravendita dei token che con due giochi. Col primo gioco Starks a seconda delle prestazioni dei giocatori giornata per giornata brucia un tot di token del giocatore. Ad esempio nell'ultima giornata di carne secchi ne sono stati bruciati 3700 e ovviamente meno token ci sono e più valgono. Ora immaginati quanti token potrebbe bruciare carne secchi in una stagione da titolare all'Atalanta e quindi quanto potrebbe aumentare di valore. Il secondo gioco è proprio un fantasy game stile fantacalcio dove vai a schierare 5 giocatori e conterà schierare i giocatori giusti giornata per giornata e la quantità di token schierati. Questo secondo gioco verrà lanciato prestissimo e si parla già di un monte premi grandioso si parla di premi sui 100.000 euro. Se ti registri a Starks passando dal link che trovi qui sotto in descrizione avrai per te subito in omaggio 15 euro al deposito dei primi 20 euro in sostanza Starks ti dà 15 euro di vantaggio come bonus iniziale per provare il sito. Vai su Starks passando dal link in descrizione e in descrizione trovi anche il mio video tutorial su come funziona il mondo Starks. Poi c'è Milinkovic Savic in seconda fascia molti si stupiranno di vederlo qui però l'anno scorso ha preso 41 gol asterisco ha preso nel senso il Torino ha preso 41 gol ragazzi io guardo la difesa della squadra non tanto il singolo portiere perché è vero che qualche volta ha giocato Berisha come è vero che qualche volta ha giocato il secondo di Meret o il secondo di Shevny e nel Toro forse vale la pena di fare la coppia se ci pensi la difesa del Toro ha preso solo un gol in meno di quella dell'Inter e due in meno di quella del Milan ma quanto costava Mignan l'anno scorso e quanto costava Milinkovic Savic in seconda fascia troviamo anche Terracciano ero tentatissimo di metterlo in terza fascia sinceramente perché comunque sia italiano l'anno scorso l'ha ruotato diverse volte infatti l'anno scorso ha fatto solo 29 presenze però al momento nella viola c'è un po' meno scelta in porta poi credo che tra un po' arrivi qualcun altro e l'anno scorso la Fiorentina ha preso solo 43 gol gli stessi del Milan torniamo al discorso quanto si pagava Terracciano e quanto si pagava Mignan però anche per Terracciano prenditi anche il secondo perché come Gasperini italiano ruota spesso i giocatori e soprattutto verso il finire di stagione tra l'altro anche la viola è impegnata nelle coppe europee andiamo in terza fascia se ti interessano queste slide ti basta fare l'abbonamento base al mio canale stiamo parlando di un paio d'euro al mese e ti arriveranno in anteprima anche tutte le slide sui difensori centrompisti e attaccanti basta premere il tasto abbonati terza fascia skorupski 49 gol presi l'anno scorso io credo che quest'anno la difesa del borgna sia migliorata con l'arrivo di beocchema secondo me prenderà qualche collettino in meno magari arriverà sui 45 e 46 quindi questo per me è un ottimo portiere di terza fascia idem di gregorio l'anno scorso ha preso 52 gol la formazione del monta però quest'anno credo che ne prenderà un po' meno secondo me arriverà sui 48 per cui questi due qua sono due ottimi portieri di terza fascia ora arriviamo alla terza fascia bis cosa intendo per terza fascia bis diciamo che sono portieri da metà classifica che magari potrebbero prendere un po' più gol o comunque sia sono portieri che arriveranno nella parte destra della classifica un poco sopra alla zona retrocessione qui troviamo Caprile il nuovo portiere dell'Empoli in prestito dal Napoli non è Vicario ricordiamolo e se l'anno scorso l'Empoli ha preso 49 gol secondo me Caprile ne prenderà un po' di più andiamo sui 52-53 ricordiamo anche che l'Empoli ha anche perso Parisi che comunque aiutava in copertura sinistra e ricordiamoci anche che Vicario è Vicario Caprile è Caprile poi ok che conta la difesa che hai davanti però Caprile deve ancora dimostrare quello che Vicario ha già dimostrato Martinef del Genoa secondo me è la migliore scommessa che viene su dalla serie B perché comunque sia il Genoa ha una difesa ben organizzata e che si sta strutturando sempre meglio stanno facendo acquisti poi in ogni settore del campo Martinef l'anno scorso ha subito soltanto 28 gol in serie B poi la A e la A la B e la B vedremo ad ogni modo credo che per come si stia costruendo questo Genoa potrebbe quasi essere un nuovo Monza dico quasi credo che sia la formazione che viene su dalla serie B che sta facendo un mercato migliore Falcone del Lecce l'anno scorso ha preso solo 46 gol l'anno scorso vi dicevo che era la migliore scommessa dell'anno in porta e infatti ha mantenuto le sue aspettative meglio nella prima parte di stagione adesso quest'anno si dice che Lecce potrebbe prendere qualche gollettino in più vedremo ad ogni modo secondo me è comunque un portiere da tenere in nota prima di andare a vedere la quarta e ultima fascia anche se sai già che nomi ci sono lasciami un like se ti sta piacendo questo video in quarta fascia troviamo Turati l'anno scorso in B ha preso 26 gol però questo Frosinone sta cambiando molto l'A è l'A la B è la B e secondo me prenderà diversi gol in più sinceramente ha ancora dei dubbi su come si stia costruendo questo Frosinone e diciamo che mi dispiace ma al momento credo che sia una squadra che prenderà diversi gol Radunovic del Cagliari occhio che c'è anche Scuffè però Ranieri ha detto che il titolare sarà Radunovic il Cagliari in B ne aveva presi 34 di gol è una squadra che si sta rinforzando però quindi Radunovic diciamo che è al confine tra quarta fascia e terza fascia bis Montipò il Verona l'anno scorso ha preso 59 gol si è salvato ai playoff ha rischiato fortemente la serie B qualcuno sta arrivando però ancora non mi basta per dire che questa sia una squadra che si salverà sicuramente hanno anche dato via qualche giocatore come Tamev e probabilmente partirà anche Doig per cui credo che sia un Verona che prenderà più gol rispetto all'anno scorso comunque lì giù di là sui 60 e qui trovi una sorpresa consigli del Sassuolo in quarta fascia lo so che verò criticato per questa affermazione perché minimo doveva essere messo in terza fascia ok ma l'anno scorso il Sassuolo ha peso 61 gol ora c'è anche il dualismo con Cragno anche se il titolare sarà consigli consigli si paga troppo per il numero di gol che prende la difesa bene o male è quella tranne che adesso c'è Viti e Viti mi piace già di più rispetto a Kierkes però da solo non è che ti può garantire l'integrità della difesa poi magari andrà a prendere un po' meno gol ad ogni modo non mi sento di puntarci tanto anche perché chi ci dice che se steccano a qualche partita poi non viene messo su Cragno e tu ti compreresti due partiti del Sassuolo poi c'è Ochoa della Salernitana cioè se la Salernitana davanti con D ha segnato molto dietro non ha presi tanti perché comunque ha preso 62 gol voglio dire lo Spez è andato in B con lo stesso numero di gol presi per cui ok che nella prima parte della stagione non ha giocato lui e Ochoa ha reso di più di sepe ad ogni modo io non mi fiderei tanto del portierone della Salernitana anche se a me piace ora fammi sapere un po' tu come sposteresti queste mie fasce dimmi che ne pensi delle mie fasce sui portieri se questo video ti è piaciuto mi raccomando fammelo sapere con un like e con l'iscrizione al canale perché ti devi iscrivere a questo canale perché io come ti ho detto cerco di farti fare la migliore asta possibile del fantacalcio dannoti video di consigli facendo live proprio di confronto tra di noi e facendo anche delle vere aste in live la prima asta in live sarà il 10 agosto alle ore 18 in live qui sul mio canale e tra l'altro l'uno e il 3 agosto sarò in live sul canale di recosta per delle aste simulate non mancare alle ore 21 dal canale di recosta ora qui ti sapevano diversi altri contenuti potresti trovare dei video di tuo interesse ciao e buona asta del fanta a tutti ti